Io sono Nimadurru, parte della comunità tibetana, oggi siamo qua per ricordare il 62esimo anniversario per Tibet. Tibet ha quasi 70 anni, sta sotto la pressione dei cinesi, che è mascherato, è entrato in Tibet come persone buone che vengono a aiutare i tibetani. In realtà loro sono venuti a prendere tutto ciò che noi abbiamo. È venuto a distruggere la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra identità, il popolo tibetano. Oggi non solo hanno distrutto Tibet, ma stanno distruggendo tutta la territoria della Himalaya. Per questo non riguarda solo la causa tibetana, ma riguarda tutti i confini della Tibet, paesi come India, come Bangladesh, come Pakistan, la Birmania, Cina, Bhutan, Nepal, tutto questo territorio sta mettendo difficoltà perché stanno inquinando tutta l'acqua a causa della costruzione di dighe, campi militari e tolgono risorse naturali dal Tibet. Per questo motivo è importante urgentemente, bisogna risolvere questo problema. Se no, sta mettendo rischiati 700 milioni di tibetani in Asia che avranno problema con l'acqua potabile, anche per vivere, perché tutto questo fiume importante arriva dalle Tibet che fa vivere tutta l'Asia centrale. Per questo motivo noi siamo qua ancora a chiedere aiuto. Grazie.